Bene, facciamo un riepilogo della reazione che abbiamo studiato in queste ultime settimane. La reazione tra acido acetico contenuto nell'aceto al 6% e il bicarbonato di sodio, quindi tra due sostanze composte o due composti, di cui qui possiamo vedere le formule C2H4O2 per l'acido acetico, NaHCO3 per il bicarbonato di sodio, dove i simboli stanno a significare Na il sodio, l'elemento sodio, O l'ossigeno, H l'idrogeno, C il carbonio, rappresentati qui, i cui atomi sono rappresentati qui dai mattoncini Lego. Durante la reazione, come vediamo nella foto sotto, le due sostanze messe a reagire in quantità opportuna interagivano tra loro, si sviluppava una sostanza gassosa che abbiamo identificato come aniride carbonica, quindi la andiamo a scrivere tra le sostanze prodotte o prodotti. Vediamo che ci sono in tutto tre prodotti, l'acqua, l'anidride carbonica o diossido di carbonio appena visto e l'acetato di sodio, di cui recentemente abbiamo sperimentato la capacità abbastanza insolita di formare delle soluzioni soprassature che poi possono essere cristallizzate. Abbiamo visto anche dei dettagli su come avviene la reazione chimica. Cioè, vediamo giallo, durante la trasformazione che cosa succede agli atomi, alle molecole, alle unità, agli aggregati di atomi? Chiaramente si devono trasformare. Abbiamo visto che era alquanto improbabile che tutti gli atomi, i 14 atomi, perché qui abbiamo complessivamente 5 atomi di ossigeno, 5 atomi di idrogeno, 3 di carbonio e 1 di sodio, che in tutto sono 14 atomi, che ci ritroviamo con gli stessi 14 atomi anche nei prodotti, solo che sono distribuiti in maniera diversa. Ecco, è abbastanza improvabile che tutti gli atomi si separino durante la reazione e poi si ricombinino a formare le molecole dei prodotti. Sarebbe come dire che due automobili vanno a sbattere, si scontrano e si distruggono completamente fino all'ultima vite e poi dopo le due automobili si trasformino dando luogo, cioè tutti i pezzi si ricombinino in modo da riformare altre due automobili diverse da quelle di partenza. È molto più comprensibile o probabile che soltanto parte dei reagenti si modifichino, soltanto una parte di ciascuno, in modo da riprodurre sempre lo stesso, la stessa combinazione di prodotti, perché questo è quello che osserviamo, cioè che i prodotti sono sempre gli stessi. Se noi avessimo separato tutti gli atomi uno per uno, ogni volta questi atomi si potrebbero combinare in modi diversi e potrebbero venire fuori centinaia di prodotti diversi, non sempre questi tre, cioè acqua, aniride carbonica e acetato di sodio. In base a questo meccanismo di smontaggio parziale, chiamiamolo, abbiamo anche visto sperimentalmente che l'atomo di carbonio qui che proviene, che va a finire, cioè nella molecola di aniride carbonica, CO2, proviene sempre e solo dal bicarbonato di sodio. Quindi nonostante ci siano altri due atomi di carbonio qua, questi non vanno a finire nell'aniride carbonica. Perché? Semplicemente perché rimangono uniti tra loro e uniti agli stessi atomi di idrogeno e di ossigeno che c'erano già nell'acido acetico di partenza. Quindi questi sono gli stessi idrogeni e ossigeni che c'erano nell'acido acetico di partenza. Anche qui ossigeno, ossigeno, carbonio, carbonio. Questi carboni, quindi la maggior parte della struttura dell'acido acetico è rimasta intatta. L'unica cosa che è accaduta è che questo atomo di idrogeno che è responsabile dell'acidità dell'acido acetico è andato a sostituire l'atomo di sodio qui e è stato sostituito, diciamo, da un atomo di sodio che è questo qua, blu, e che ce lo ritroviamo nell'acido, nell'acetato di sodio alla fine della reazione al posto dell'atomo di idrogeno. Mentre una, diciamo, distruzione un po' più completa, l'ha subita la molecola, l'unità aggregato dell'unità di bicarbonato di sodio. Infatti i suoi atomi sono andati a finire un po' in tutti e tre i prodotti. Per esempio l'atomo di idrogeno che stava qua è andato a finire in uno dei due atomi di idrogeno dell'acqua e due atomi di ossigeno sono rimasti legati al carbonio, diciamo questo e questo, mentre un altro atomo di ossigeno è andato a finire nell'acqua. quindi abbiamo l'atomo di carbonio qui nella CO2, quindi i frammenti di bicarbonato di sodio ce li ritroviamo in tutte e tre le sostanze prodotte o prodotti. Un'altra cosa che possiamo notare che è piuttosto una coincidenza perché non tutte le reazioni chimiche avvengono in questa maniera è che qui sono state coinvolte nella reazione soltanto una molecola di acido acetico, deve reagire con una unità di questo bicarbonato di sodio e tra i prodotti abbiamo ugualmente una molecola d'acqua, una molecola di CO2, una molecola unità o unità di acetato di sodio. Questo ci faciliterà i calcoli che adesso dobbiamo andare a fare. Che cosa dobbiamo calcolare? Dobbiamo calcolare quanti grammi di tutti i recenti prodotti si sono formati in questa reazione in cui siamo partiti da 4,2 grammi di bicarbonato di sodio più una quantità sufficiente di acido acetico. Quindi possiamo subito cercare quant'era questa quantità sufficiente di acido acetico. Poi troveremo quant'era la quantità di acqua che si poteva formare, la massa di acqua, la massa di anidride carbonica, la massa di acetato di sodio. Iniziamo con il calcolare i pesi formula. Che cosa sono i pesi formula? I pesi formula sono le somme dei pesi atomici che vediamo comparire nelle formule. Quindi il peso formula di acqua. Per esempio dell'acido acetico lo otteniamo utilizzando questi numeretti qua sotto. 12,0 è il peso atomico del carbonio. 1,0 è il peso atomico dell'idrogeno. 16,0 è quello dell'ossigeno. 22,9, anzi questa sarebbe 23,0 è il peso atomico del sodio. 23,0 è quello del sodio. Approssimati a una cifra dopo la virgola. Questi pesi sono relativi cioè il fatto che il carbonio pesi 12 non significa che pesa ogni atomo 12 grammi ma semplicemente che pesa 12 volte di più dell'atomo di idrogeno. Così come l'ossigeno pesa 16 volte di più dell'atomo di idrogeno che è il più leggero di tutti gli atomi degli elementi della tavola periodica mentre il sodio è più pesante dell'atomo più pesante tra questi quattro che pesa 23 volte l'atomo di idrogeno. Quindi i pesi formula ci diranno quanto ogni unità formula o molecola sono più pesanti dell'atomo di idrogeno. Quindi è un'altra unità di massa che non è in grammi. Nel caso dell'acido acetico dobbiamo sommare il peso di due atomi di carbonio quindi 12 per 2 è 24 più quello di 4 idrogeni che pesano 1 per 4 è 4 quindi 24 più 4 è 28 più 2 due ossigeni due atomi di ossigeno che pesano 16 grammi l'1 quindi 28 più 16 per 2 è 32 uguale questo il peso formula è 60 cioè 60 volte l'idrogeno. Per quanto riguarda il bicarbonato di sodio la formula è NaHCO3 quindi abbiamo un atomo di sodio, 1 di idrogeno, 1 di carbonio e 3 di ossigeno. Quello di sodio pesa 23 l'idrogeno 1 quindi 24 più 12 del carbonio sono altri, 23, 1, 12 più 3 ossigeni a cui abbiamo, mettiamo anche il decimale 60,0 qui abbiamo 12 quindi 24 più 12 fa 36 più 3 ossigeni che fanno 16 per 3 è 48 quindi abbiamo 36 più 48 uguale il totale 84,0 Bene, allora iniziamo a vedere, prima di calcolare anche quelli dei prodotti, possiamo già calcolare la quantità di acido acetico sufficiente a trasformare tutto il bicarbonato. Allora vediamo in che rapporto sono queste due formule quindi mettiamo sopra quella che dobbiamo trovare cioè questa dell'acido acetico 60 quindi ogni unità di acido acetico che si forma pesa i 60 80 quattresimi della unità di bicarbonato e questo in qualsiasi unità di misura sia se sono volte l'idrogeno oppure anche se sono grammi o qualsiasi altra cosa. Quindi noi ci aspettiamo che per far combinare 4,2 grammi di bicarbonato di sodio si debbano prendere con la stessa proporzione cioè 60 80 quattresimi grammi di di questa quantità di acido acetico per il semplice motivo che l'acido acetico pesa di meno cioè 60 rispetto al bicarbonato di sodio. Quindi noi stiamo mettendo un ugual numero di molecole ma quelle di acido acetico pesano i 60 80 quattresimi e quindi anche il peso totale dovrà essere i 60 80 quattresimi di 4,2 e questo peso da luogo se prendiamo la calcolatrice da luogo a 3 grammi esatti di acido acetico. Dove li trovavamo questi 3 grammi? Li trovavamo in 50 millilitri in 50 millilitri di aceto al 6% perché se è al 6% significa che prendendo 100 millilitri abbiamo 6 grammi se ne prendiamo 50 abbiamo 3 grammi. Ecco il motivo per cui abbiamo messo 50 millilitri di acido acetico per avere questi 3 grammi. Quindi passiamo adesso a calcolare gli altri prodotti, le quantità di prodotti che si ottengono mettendo assieme 3 grammi di acido acetico e 4,2 grammi di bicarbonato di sodio. Nel caso dell'acqua dobbiamo prima calcolare come abbiamo fatto finora il peso formula semplicemente sommando due volte uno perché ci sono due idrogeni più un 16 totale 18 questo è il peso formula dell'acqua della molecola d'acqua quindi possiamo vedere che la molecola d'acqua pesa molto meno dell'unità di carbonato di sodio facciamo come prima mettiamo al numeratore il peso formula della sostanza di cui dobbiamo trovare la massa formata e al denominatore facciamo la proporzione quindi tra questo 18 il peso della molecola d'acqua sul peso dell'unità di bicarbonato di sodio che è 84 mettiamo anche il decimali e in questa proporzione si dovrà formare una quantità di acqua pari a 4,2 cioè la quantità di bicarbonato a cui la quantità di acqua deve essere proporzionale quindi la proporzione ci da tra 4,2 per 18,0 diviso 84 facendo il calcolo con la calcolatrice otteniamo 0,9 grammi mettiamo un grammi qui e otteniamo un 0,9 grammi prima di passare a calcolare gli altri due vediamo adesso come si può modificare questo calcolo e dargli un po' più significato allora se io raggruppo il rapporto in quest'altra maniera cioè divido i 4,2 grammi di bicarbonato per il peso formula del bicarbonato e poi lo moltiplico per il peso formula dell'acqua otterrò sempre, otterrò come prima lo stesso risultato cioè 0,9 grammi di acqua ma vediamo cosa significa dividere 4,2 grammi di bicarbonato di sodio per il suo peso formula per quello che ci ricordiamo delle moli noi sappiamo che se dividiamo per il peso formula riportato in grammi su mole diciamo questa è la quantità in grammi che corrisponde ad una mole quello che otterremo è quante volte la massa di una mole è contenuta nei 4,2 grammi e questo risulta dare 0,050 moli che significa? significa che nei 4,2 grammi abbiamo 0,05 moli ossia un ventesimo di mole perché se faccio 1 diviso 20 ottengo proprio 0,05 un ventesimo di mole ma che cos'è questa mole di cui abbiamo preso un ventesimo? è un numero ben preciso di unità di bicarbonato di sodio quante ce ne sono in una mole? in una mole ce ne sono una mole comprende 6, anzi 602.214 miliardi di miliardi che scrivo 10 alla 9 per 10 alla 9 cioè in pratica 6,02 eccetera eccetera per 10 alla 23 unità di qualsiasi cosa e come le lozzine sono la lozzina è 12 di qualsiasi cosa una mole è 6,02 per 10 alla 23 di qualsiasi tipo di unità quindi se noi prendiamo un ventesimo di mole di bicarbonato di sodio stiamo prendendo un ventesimo di questo 6 centomila miliardi di miliardi di unità quindi un numero ben preciso l'importante è capire che abbiamo un numero ben preciso e allora questo numero ben preciso di unità di bicarbonato di sodio dovrà essere uguale al numero ben preciso di unità di acqua solo che le unità di acqua, le molecole d'acqua pesano di meno perciò se io prendo queste moli 0,050 e le moltiplico come ho fatto qui per il peso di ogni unità di acqua cioè per 18 e quindi a questo punto qui diventano grammi su mole qui diventano anche qua 18 grammi su mole il 0,09 grammi che ottengo sono appunto quanto pesa uno stesso numero di molecole d'acqua questo stesso numero che abbiamo detto è circa un ventesimo di 6 quindi sono circa 30 mila per miliardi di miliardi 10 alla 9 questo numero di molecole d'acqua pesa 0,9 grammi lo stesso numero di unità di bicarbonato pesa invece 4,2 grammi semplicemente perché le unità di bicarbonato sono più grandi allora applichiamo lo stesso calcolo anche per gli altri due composti che abbiamo ottenuto cioè l'anidride carbonica di cui anche qui ne otteniamo una un numero uguale anche qui cioè 30 mila di miliardi di anidride carbonica che ha una massa un peso formula costituito da 12 di carbonio più 12 16 per 2 è 32 più 12 fa 44,0 questo è il peso formula dell'anidride carbonica mentre la massa di una mole è 44,0 grammi alla mole quindi una mole di anidride carbonica pesa di più di una mole di acqua che è 18 grammi ma di meno di una mole di bicarbonato che è 84 grammi facciamo lo stesso calcolo di adesso cioè riprendiamo sempre il nostro solito rapporto 4,2 grammi diviso 84,0 grammi alla mole che abbiamo cerchiato in giallo per ricordarci che questo ci dà il numero di moli di bicarbonato di acido acetico di acqua di anidride carbonica e di acetato di solito e lo moltiplichiamo questo numero di moli per quanto pesa ogni mole di CO2 cioè per 44,0 grammi alla mole e così otteniamo prendendo la calcolatrice semplifichiamo tutto quello che c'è da semplificare tipo questo, 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 questo e ci rimangono 4,1 grammi il risultato è 4,1 grammi quindi qui possiamo scrivere 4,1 grammi no, non è questo il risultato, questo è sbagliato deve portare 2,2 grammi di anidride carbonica 4,1 e l'altro prodotto 2,2 grammi quindi qui scriviamo 2,2 grammi di acqua 0,9 grammi e ora è rimasto l'acetato di sodio che avrà una massa invece di riscrivere tutta questa parte cerchiata in giallo scriviamo semplicemente prima dobbiamo comunque calcolare il peso formula una unità formula di acetato di sodio è un NaC2H3O2 quindi dobbiamo sommare 23 del sodio più 2 carboni che fanno 24 quindi 23 più 24 è 47 più 3 idrogeni per 1 fanno 3 47 più 3 fa 50 più 2 ossigeni 16 per 2 32 più 50 fa 82 quindi il peso formula è 82 il peso della mole è 82 grammi e se le moli sono questa volta breviamo quindi se le moli sono 0,05 cioè un ventesimo di mole il peso o massa di tutto l'acetato di sodio che dobbiamo ottenere sarà un ventesimo di 82 e un ventesimo di 82 fa come un mezzo di 82 cioè 41 diviso 10 e quindi 4,1 grammi e così abbiamo trovato anche la massa dell'acetato di sodio però anidro cioè senza acqua i cristalli che abbiamo ottenuto invece non sono per niente anidri ma sono inglobano diciamo chimicamente legate tre molecole di acqua quindi abbiamo visto due modi per fare il calcolo che però in realtà è un modo solo l'unica cosa che può cambiare in queste proporzioni e se noi sappiamo che dentro a queste proporzioni ci sono le moli cioè i numeri di unità delle sostanze che reagiscono oppure facciamo le stesse proporzioni senza sapere che in realtà stiamo utilizzando i numeri di queste sostanze di queste unità delle sostanze che stanno reagendo completiamo mettendo il coefficiente anche qui ripeto è una reazione abbastanza fortunata in cui tutti i coefficienti sono unitari se qualche coefficiente dovesse essere diverso dall'unità il calcolo rimarrebbe più o meno lo stesso non ci sarebbero molte complicazioni in più e questo è tutto